Namaste, Satguru. Satguru, cos'è la volontà cosmica e cos'è il libero arbitrio? Cosmica? Sì. Il libero arbitrio è la stessa cosa della volontà cosmica o esiste un qualcosa di cosmico che è predestinato? Ciò che chiami volontà cosmica non è volontà come la conosci, come la volontà umana, come la volontà della tua mente. Ha un certo schema, ha una certa qualità. Ciò che governa il cosmo ha una certa consapevolezza e una tendenza proprio. Quello c'è sempre. Che tu e Dio esistiamo adesso è volontà cosmica, ma che adesso tu abbia deciso di venire al Satsang è sicuramente volontà tua, non è vero? Non è così? Quindi la volontà cosmica non è come una decisione. Semplicemente c'è. È per volontà cosmica che abbiamo assunto questa forma. È per volontà cosmica che il pianeta gira intorno al Sole. Questo non è come i pensieri umani. Questa è semplicemente la qualità della natura. In questo momento l'acqua scorre dall'alto verso il basso. Prova a fermarla come credi. Sembra avere una volontà propria. Ma non è una volontà. Sta scorrendo secondo le leggi di gravità. Quindi la volontà cosmica è come la forza gravitazionale e varie altre cose. Semplicemente c'è. Sempre. Agisce solo in quel modo. Perché il contesto stesso della vita è basato sulla volontà cosmica. Ma che tu oggi decida di fare questo o quello è decisamente volontà tua. La volontà cosmica non ha nessun ruolo in questo. Ma puoi usare la forza cosmica per trasformare la tua volontà in realtà. In questo momento la forza gravitazionale è in atto. Usandola sto seduto qui. Altrimenti starei fluttuando dappertutto. Sì? Avrei bisogno di un'ancora. Per stare qui. Siccome la gravità funziona, mi godo il fatto di stare seduto qui. Altrimenti... Usando la stessa gravità posso ballare. È mia volontà. Stare seduto è mia volontà. Ballare è mia volontà. Se voglio posso saltare giù. Anche questa è mia volontà. Ma tutte queste cose non possono succedere senza la gravità. Questa è l'analogia più vicina a cui possiamo arrivare, probabilmente. Quindi la volontà cosmica è sempre in gioco. Ce la godiamo in ogni momento della nostra vita. O altre volte ne soffriamo. La gravità può farti ballare, la gravità può farti cadere, se non sei in sintonia con essa. Quindi è qui che gioco la tua volontà. La tua volontà determina e la tua volontà è in grado di usare la volontà cosmica. Senza di essa la tua volontà non esisterebbe nemmeno. È volontà cosmica che tu debba avere una volontà. Ma non cercare di soddisfare la tua vita attraverso la tua volontà. Perché la tua volontà è generalmente potenziata da un pensiero. Il tuo pensiero è essenzialmente roba accumulata. Il tuo pensiero è ciò che hai raccolto intorno a te. Sono le informazioni che hai raccolto, che stai rielaborando, riciclandole in così tanti modi diversi. Fare le cose con la forza di volontà va bene se punti a delle piccole cose. Stamattina vuoi alzarti alle cinque. Lo fai con la forza di volontà o con la forza della sveglia? Anche se suona la sveglia, hai comunque bisogno della forza di volontà per uscire dal tuo letto. Se fai questo, potreste riuscire a fare delle cose, ma alla fine della giornata avrai un muso lungo. Invece di provare a farlo con la forza di volontà, fallo con devozione. Fallo con amore. Ora voglio alzarmi alle cinque perché c'è qualcosa che voglio davvero fare. Non che devo fare. Non c'è niente nella mia vita che devo fare. Tutte le cose nella mia vita sono cose che voglio fare. Quindi se la sveglia è alle cinque, mi alzo alle quattro e trenta. Perché voglio farlo. Se conduci la tua vita come un io devo fare, perché questa è forza di volontà, a tutti i costi devo farlo, devo farlo, devo farlo, potresti riuscire a farlo, ma il tuo viso diventerà un muso lungo, è sofferente. Ogni cosa è accaduta, ma alla fine della giornata è un muso lungo. Lo scopo è compromesso, non è vero? Lo scopo del fare tutto ciò è già stato compromesso, non è così? Siccome non te lo sei goduto, non ti soddisfa. Qual è il punto? Quindi non c'è bisogno di fare delle cose, di condurre la tua vita con forza di volontà. Qua e là, piccole cose, a volte quando il tuo corpo ti fa male, quel giorno ti serve forza di volontà, per spingerti un pochino. Ma non cercare di condurre il processo vitale stesso con forza di volontà, perché diventerai un muso lungo di successo. Un'ulcera nello stomaco, successo nella borsa, un muso così lungo che nessuno verrà a vederlo. O il tuo mentore aschierà le strade di Darabad. Non va bene. Perché io ho un cuscino, tu cosa farai? Grazie. 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 Grazie.